Salve a tutti ragazzi, vostro Lee, benvenuti in questo nuovo contest in collaborazione con Cooler Master. Prima di passare ai premi vediamo subito il regolamento. Dovrete scrivere giù nei commenti partecipo, poi dovete mettere mi piace a questo video, dovete condividerlo, aggiungerlo ai preferiti, iscrivervi al mio canale, poi dovete andare sulla mia pagina facebook e mettere mi piace, stessa cosa sulla pagina facebook di Cooler Master Italia, dovete mettere un mi piace anche lì e dovete andare sul canale youtube di Cooler Master Italia e iscrivervi. Chi di voi non rispetterà una di queste regole purtroppo verrà escluso dal contest. Tutti i vostri commenti saranno numerati a partire dal primo che commenterà, quindi il primo commento riceverà il numero 1, il secondo il numero 2, il terzo 3 e così via. Trovate comunque tutte le istruzioni e i link giù in descrizione, quindi mi raccomando leggete attentamente anche la descrizione. Il contest avrà una durata di 4 giorni e cioè dal primo aprile alle 10 di mattina, data in cui lo starete probabilmente vedendo, e terminerà il 4 aprile alle 23 e 59, quindi venerdì. In ogni caso lo scriverò anche nel titolo, contest aperto nei giorni in cui è aperto, contest chiuso una volta superati il 4 aprile alle 23 e 59, quindi dal 5 aprile in poi non potrete più partecipare. Una volta chiuso il contest controllerò tramite programma se tutti i partecipanti hanno seguito il regolamento, e qualche giorno dopo pubblicherò un nuovo video dove verranno estratti vincitori. I vincitori verranno estratti tramite random.org. Passiamo adesso finalmente ai premi. Il primo estratto si porterà a casa una tastiera Quickfire TK Stealth, potete vedere l'immagine qui di fianco. Mentre il secondo estratto si porterà a casa questo headset, l'Eceres 500 sempre della Cooler Master. Questo headset lo sto utilizzando per fare la maggior parte dei gameplay e dei tutorial, quindi la voce che avete sentito proviene da questo microfono, quindi come potete vedere è davvero di elevata qualità. Detto questo ragazzi non mi resta che augurare a tutti voi in bocca al lupo e mi raccomando seguite molto attentamente il regolamento, che potete riascoltare all'inizio del video o se volete, ripeto, lo trovate scritto giù in descrizione. Nuovamente ragazzi in bocca al lupo a tutti e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye!